Quali sono i dati più significativi che emergono nel report 2014 dell'autorità di garanzia? Innanzitutto un aumento complessivo dei fascicoli trattati, abbiamo raggiunto un picco di quasi 500 casi rispetto a 10 anni fa, insomma voglio dire che questo è un dato veramente significativo, sono in crescita fortemente i settori delle carceri con circa 204 richieste di intervento e anche quello dei minori. In calo purtroppo la difesa civica che è un settore importantissimo ma qui bisogna sottolineare una criticità, manca ancora la convenzione con l'Anci e purtroppo io farò un ulteriore sollecito anche ufficiale perché questo è un documento essenziale che ci consente di operare all'interno del territorio regionale su questo delicato settore dei diritti dei cittadini. Le criticità riguardano soprattutto in primo luogo la mancata costruzione del nuovo carcere di Camerino e purtroppo su questo non c'è stata un'animità di intenti. La chiusura doveva corrispondere a questo, la chiusura di due realtà, quella Camerte attuale che, lo vorrei sottolineare, è fortemente sovraffollata, addirittura i dati ultimi ci riportano addirittura 60 casi rispetto a una capienza regolamentare di 40 detenuti e quindi questo è un dato da sottolineare e lo riporterò anche nell'incontro che avrò con Santi Consolo, che è il capo del DAP e che abbiamo tra circa una settimana a Roma. E l'altra questione, sempre per quanto riguarda le carceri, invece, e questo è un dato positivo, è la riapertura del funzionamento a regime di Barcaglione. Questo vorrei sottolineare è uno degli elementi più significativi che sono riuscito ad ottenere, però non tanto per merito mio ma grazie anche all'intervento del Presidente Napolitano che a suo tempo fece proprio presa e posizione per la riapertura del carcere stesso che oggi funziona a regime. Oggi presentiamo anche un volume, un garante per tutti. Che cos'è questo libro? Rappresenta la sintesi di cinque anni di intenso lavoro. Non è certamente tutto merito mio ma anche dello staff che ha supportato questi cinque anni nei vari settori di competenza, soprattutto è merito anche del servizio comunicazione e informazione del Consiglio regionale che ha seguito passo passo i lavori che ho portato avanti, anche le iniziative che portatasi nel tempo e che oggi possono essere sintetizzate in questo quaderno che rappresenta una testimonianza concreta di quello che è stato fatto.